Crollano definitivamente, sotto i colpi dell'Albino Leffe, i sogni play-off del Lumezzani. La formazione di Raffaele Santini perde sul proprio terreno amico del comunale per 2-1 contro i Bergamaschi, dovendo definitivamente abbandonare i voli pindarici. Ma nell'economia dell'incontro pese non poco la decisione del direttore di gara ad annullare il possibile gol del 1-1 di inglese con una scelta alquanto discutibile. Privo di Dazzo, Anvigorito e Meola, Santini debutta davanti al proprio pubblico di casa. Sono gli ospiti però a partire meglio e già il settimo Belotti trova il gol del vantaggio, ma per fortuna Rosso-Blu il guardaline segnala all'arbitro la posizione di fuorigioco del giocatore al momento della partenza dell'azione. Il Lumezzani si vede al quarto d'ora e Barai a provare la conclusione al termine di un'azione personale, ma Offredi c'è. Poco dopo la mezz'ora arriva il vantaggio dell'Albino Leffe, l'arbitro Ripa sanziona con una punizione dal limite, un corpo a corpo da Metto Pesenti. Sulla palla si presenta Tugurdo che infila Coletta. Il portiere Valgobbino si riscatta in parte sul finire di prima frazione quando evita in due circostanze il raddoppio degli ospiti. Ad inizio ripresa l'episodio incriminato, corre l'undicesimo sul cronometro quando Inglese colpisce di testa una punizione calciata da Marcolini. Offredi battuto, ma l'arbitro tra lo sconcerto generale annulla. Così al ventiduesimo arriva la doccia gelata per il Lumezzane, si sia appena entrato, sfodera un raso terra micidele da 30 metri che si infila nell'angolino. Il Lumezzane ferito ha un sussulto d'orgoglio al quarantaquattresimo con Inglese che di testa stacca più in alto di tutti su cross da destra di Giorico e fissa il punteggio sul 2-1 finale.